Ciao a tutti, sono Mr.Dug e benvenuti in questo nuovo video. Allora, iniziamo subito. In questo video vi insegnerò come montare le lancette di un orologio. Guardate con questo meccanismo, ma subito dopo la sigla! Eccoci qua, dopo aver montato il nostro ingranaggio, con dado e rondella, possiamo iniziare a montare le lancette. Iniziamo a montare l'ancetta delle ore. E' semplicissimo, basta metterlo e incastrarlo. Ok. Ora iniziamo a montare la lancetta delle minuti. Centriamolo. Centriamo e incastriamo. Ok. E per finire, quella dei secondi. Secondi. Ci vuole più. Ok. Fatto. Capita. Capita. Quest'un video. Questa. Capita.